Ciao ragazzi, oggi ti propongo una meditazione guidata accompagnata dal suono delle campane tibetane incentrata sul settimo chakra. Prima della meditazione come al solito ti vado a leggere qualche parola sul settimo chakra dal mio libro Edoardo Cicconi. Ha il nome sanscrito di Saas Rara, letteralmente mille volte tanto, ed è anche conosciuto come il chakra della corona. È il chakra dell'unione energetica col tutto, della perfetta armonia con la nostra essenza di esseri spirituali, individuali, facenti ognuno parte dello stesso tutto. Il settimo chakra si trova sopra la testa, in quella posizione che l'iconografia cristiana fa corrispondere all'aureola dei santi. Il lato oscuro di questo chakra è il falso ego, il considerarsi dei maestri, e questo avviene quando si sviluppano i poteri degli yogi realizzati ma li si utilizzano solo per un proprio tornaconto personale, solo per mero esibizionismo o solo per denaro, senza favorire il benessere e il percorso degli altri individui incarnati presenti sul pianeta Terra. Come al solito ti invito a recuperare delle cuffiette per meglio godere dell'esperienza dei suoni delle campane tibetane e a scegliere a trovare una posizione comoda, come preferisci tu, seduto o sdraiato, e sentiti libero poi di cambiare posizione quante volte vorrai nel corso di questo tempo. Bene, possiamo iniziare. Parti da una posizione comoda, possibilmente seduto ma altrimenti va benissimo anche da sdraiato. Socchiudi delicatamente i tuoi occhi ed inizi a respirare in modo quieto e consapevole. Sistema il tuo corpo e ammorbidisci dolcemente ogni parte del tuo corpo che avverti rigida, contratta o scomoda. Ogni volta che inspiri porta l'attenzione dentro di te ed ogni volta che espiri lascia andare ogni tensione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ascolta il tuo respiro, ascolta come l'aria entra, come l'aria esce e come ti permette di espanderti dolcemente e senza sforzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora ascolta tutti i muscoli del tuo corpo e mentre continui a respirare in modo quieto e consapevole, ripeti mentalmente o ancora meglio a voce da alta, il mio corpo è completamente rilassato. Grazie a tutti. 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 Il mio corpo è completamente rilassato. Grazie a tutti. Ora che il tuo corpo è quieto e rilassato, porta l'attenzione nella tua mente e lascia dolcemente andare ogni pensiero ed ogni emozione. rimani nel silenzio, diventa quiete. Tu non sei soltanto su questo pianeta, non solamente questo corpo e non solo la tua mente. Tu sei coscienza eterna. Molto bene. Ora ascolta brevemente il tuo corpo. Il tuo corpo è sistemane le parti che avverti scomode. Assumi una posizione rilassata e confortevole. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. del tuo corpo in quella stanza. Inizia ora molto lentamente a muovere ogni singola parte del tuo corpo. Inizia dolcemente a sgranchire gambe, braccia, collo ed ogni altro singolo pezzo del tuo corpo. Riprendi lentamente possesso del tuo corpo. Ora sempre molto delicatamente inizia a riaprire i tuoi occhi, senza spalancarli ma aprili piano piano. Prenditi del tempo e nel momento in cui sarai completamente nel qui e ora, torna con gioia alle tue buone azioni quotidiane. Fuori e dentro il viaggio continua. Namaste. Grazie a tutti.